La stazione ferroviaria di Ascea Marina diventa smart. Lo scalo infatti è destinatario di un importante finanziamento che garantirà il suo completo restyling ma anche importanti innovazioni. L'ha annunciato il primo cittadino Pietro D'Angiolillo. 2,5 milioni di euro è la cifra messa in campo. Le opere garantiranno l'intera riqualificazione della stazione, il rifacimento dei marciapiedi che saranno rialzati secondo i nuovi standard e saranno realizzati anche degli ascensori per diversamente abili. È un momento davvero importante perché nell'ambito di questo progetto si prevede una integrazione della stazione con tutto il territorio e tutto il tessuto sociale, ha spiegato il sindaco D'Angiolillo, perché le stazioni, aggiunto, non sono più considerate solo un punto di partenza e un punto di arrivo ma anche un momento di coesione con tutto il territorio. La stazione ferroviaria di Ascea quindi sarà più accessibile e più integrata con il territorio grazie anche alla sua posizione strategica a pochi passi dal centro cittadino e dalla fascia costiera.